Bene, bene, eccoci amici, bentrovati, l'informazione di TeleIblea sul canale 110 per ora, ma voi sapete che nel prossimo mese dovremo cambiare tutti, tutte le televisioni cambieranno i numeri e quindi vedremo come va a finire. Allora, oggi è stata una giornata particolare, da noi fa caldo, anche se è più vigile, ma avete visto cosa è successo a Palermo, come si suol dire non ci sono più le mezze stagioni, perché a primavera dovremmo avere un tempo diverso e invece le cose vanno sempre più peggiorando, di che è la colpa? Probabilmente del cambiamento climatico, ma il cambiamento climatico, dobbiamo anche dire, si basa molto sul consumo dell'energia. Ieri abbiamo parlato con l'ingegnere Licitra sulla possibilità nel nostro territorio anche di avere delle risorse interessanti di gas e questo sarà un argomento anche di campagna elettorale, certamente nei prossimi mesi verrà affrontato. A livello internazionale c'è anche il problema del gas, avete visto cosa ha fatto Putin? Ha praticamente chiuso il rubinetto verso la Germania e verso l'Austria, che è una cosa che poteva essere, ci siamo accorti che lo ha fatto e poi ha deciso, ha firmato per la questione del pagamento in rubli. Gli stati europei sono arrabbiati e dicendo come? L'accordo era il pagamento in Euro, quindi perché ti dovremmo pagare in rubli? Nel passato sarebbe stata una cosa bellissima perché il rublo aveva un valore molto più basso, quindi sarebbe stato comodo, ma oggi non è più così perché con questo obbligo chiaramente il rublo si alzerà, crescerà, anche se c'è la guerra e quindi ci sono delle difficoltà oggettive per tutto il mondo economico, però lui ha detto assolutamente così, anche questa è una cosa che bisognerà vedere. Poi le guerre sono una cosa strana perché ecco c'è il telefono, io non so se nel 1940 c'era che ti posso dire Winston Churchill che poteva telefonare ad Adolf Hitler, si faceva la telefonata, non era così, qua invece è molto più semplice, tanto è vero che oggi, pensate, il premier Draghi che qualche giorno fa è stato un po' direi duro, ha detto che le trevo le armi e lo hanno sfottuto tutti, che ha esagerato, oggi ha preso il telefono e ha chiamato a Vladimir, ha detto Vladimir, come stai? Vladimir ha risposto, questa è la cosa bella, Vladimir ha risposto, cioè in queste situazioni particolari esistono ancora le convenzioni, ha detto Vladimir, ma sentirete cosa dice Putin e cosa dice Draghi? Diceva la pace, sì insomma si può fare, però ancora la pace non c'è, ma sono cambiate alcune cose, oggi ho visto i collegamenti di qualche collega che passeggiava tranquillamente nella piazza di Odessa, lo ha detto lui, il clima è cambiato, i bar sono aperti, i ragazzi vanno a prendersi l'aperitivo, vorremmo capire cosa sta accadendo, ma allora sentiamo cosa ha detto Draghi dopo la telefonata, ci racconta come è andata con Putin? Vediamo.